benvenuti al tg 10 c'è la pagina sindacale in apertura dal telegiornale torniamo ad occuparci dalla grave crisi che interessa l'indotto dello stabilimento eni di gela gli operai chiedono aiuto alla politica la loro situazione si è fatta realmente preoccupante tra famiglie da mantenere e mutui da pagare vediamo l'ultimo saldo mi hanno fatto a dicembre sono passati molti mesi dall'ora ad oggi cosa è accaduto niente stiamo cercando di sopravvivere non abbiamo altre alternative sindacate ormai è solo un bla 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 e alla politica siamo andati a a sentire i politici e loro non hanno risposta per noi l'indotto dello stabilimento eni di gela lancia l'ennesima richiesta di aiuto a tutti la situazione si è fatta realmente preoccupante fiumi di parole ma nel concreto dicono gli operai accade nulla e non sanno più a che santo votarsi hanno famiglie da mantenere e mutui da pagare vogliono ricominciare a lavorare da subito in questo territorio oltre alle 32 milioni di euro di compensazioni e alle 18 milioni di euro di roy artistiche sarebbero 50 milioni di euro ci sarebbe tantissimo lavoro per tanta gente disoccupata e appunto lancio questo messaggio per far sapere a tantissime persone che sicuramente ad oggi non sanno di questa situazione perché tanti comuni sono in difficoltà e hanno dei problemi economici ma il comune di gela grazie alla raffineria e grazie a questi soldi della compensazione non avrebbe questi problemi per cui io direi alla gente di riunirci per cercare di protestare di manifestare per andare a recriminare i nostri diritti lavorativi l'Eni doveva sapere che essendo l'Eni a Gela l'unica alternativa per tutto il territorio da un giorno all'altro non poteva fare prima creava le alternative e poi per la riconversione anche perché l'ultima cosa secondo me è ancora un blef perché secondo me questi signori stanno aspettando la sentenza di fine giugno per cui è inutile che i lavori dovranno partire ad aprile, a maggio, adesso a giugno però secondo la mia ignoranza e voglio fare l'ignorante questi aspettano la sentenza del Tribunale di Gela C'è anche una soluzione che potrebbe essere messa in campo dall'amministrazione comunale Ho visto che ad esempio ad Acireale il Comune si è costituito per aiutare i soffri dei debiti che si facevano quando si lavorava però oggi non si riescono a pagare perché non c'è lavoro il Comune si è costituito sotto questa forma o per dimezzare addirittura anche per togliere una buona parte di debiti dove praticamente la gente ha la possibilità anche di poter vivere perché siamo tutti padri di famiglia e che l'istituzione ci abbia un pochettino, non dico abbandonata però sembra che vogliono lasciare morire piano piano questa realtà ma non si può accettare questo io credo che i cittadini gelesi devono far venire fuori quello che è l'orgoglio perché una volta si diceva l'orgoglio di essere gelesi ma oggi ancora di più perché oggi si deve combattere e solo stando insieme possiamo arrivare a ottenere un risultato positivo e più volte il Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana ha manifestato preoccupazione per coloro i quali hanno perso il lavoro alla raffineria sottolineando che al dramma possa aggiungersi altro dramma cioè quello di rivolgersi alla malavità e favorire dunque ulteriormente la mafia che è in agguato approfittando dello stato di disperazione degli operai e delle loro famiglie della vicenda ne abbiamo parlato con il colonnello Giuseppe Pisano direttore della direzione investigativa antimafia di Caltanissetta sentiamo cosa ci ha riferito colonnello si parla tanto in questi giorni, in queste settimane di garantire al gelese il lavoro vero però purtroppo in città e nel comprensorio prolifera il lavoro nero come la DIA sta fronteggiando questa situazione? beh chiaramente il lavoro nero è e resta un problema atavico nel meridione d'Italia perché finché le aziende riempiranno i loro gap di efficienza e di competitività non migliorando i loro processi produttivi ma semplicemente ricorrendo appunto al lavoro nero e quindi risparmiando sui contributi e sulla pelle dei lavoratori il problema è e resta grosso la DIA contrasta questo attraverso il monitoraggio delle aziende ogni qualvolta le aziende si affacciano per esempio nel settore degli appalti dei appalti pubblici ma anche nelle grosse opere soprattutto quelle che sono diciamo in qualche modo vincolate a dei protocolli di legalità con il controllo ferreo dei cantieri, delle maestranze, degli accessi ai cantieri per fare in modo che almeno ecco le grosse opere soprattutto quelle diciamo che si vengono finanziate con fondi pubblici almeno quelle abbiano diciamo maestranze assolutamente in regola non vorremmo che con la chiusura dello stabilimento qualche operaio venisse sedotto dalla criminalità organizzata? storicamente la criminalità organizzata ha sempre pescato nella disponibilità di mano d'opera a basso costo nella disperazione delle persone e in parte anche ovviamente nell'ignoranza di chi pensa che il guadagno facile sia comunque un obiettivo e non si ponga mai il problema delle conseguenze che ci possono essere dietro va detto che il lavoro non può essere creato dal nulla il lavoro deve essere un investimento di sistema per cui la politica, le istituzioni, la società civile si deve impegnare affinché lavoro e cultura del lavoro legale diventino un valore di tutti e non possono essere soltanto piovuti dall'alto perché magari lo Stato interviene e appioggia controvvidenze o regala lavoro ecco ma già ci sono stati dei casi che qualcuno sia stato sedotto dalla criminalità? beh purtroppo casi di questo genere sì ci sono ci sono sempre nelle operazioni di servizio in cui si aggrediscono clan criminali c'è sempre il caso del ragazzo nulla facente che si fa sedurre dalla criminalità piuttosto che alle volte anche il lavoratore che ha perso il posto che non riesce a trovare alternativa e che si fa sedurre dal guadagno facile di aziende criminali piuttosto che addirittura della criminalità spicciola e la Wiltec durante l'esecutivo che si è svolto a Gela ha invitato l'Eni ad investire rilanciando il piano occupazionale crisi industriale, riconversione dello stabilimento Eni di Gela non ancora partita bonifica dell'impianto ISAF saltata sono alcuni dei punti trattati nel corso dell'esecutivo macro area sud-est Sicilia della Wiltec che si è svolto nella sede gelese di via Colombo Eni è stato ribadito deve continuare ad investire rilanciando il piano occupazionale e la politica regionale deve stare attenta alle dinamiche industriali nell'isola Emanuele Sorrentino, segretario generale macro area sud-est Sicilia vogliamo anche capire e vedere quali sono le intenzioni di Eni per quanto riguarda anche tutto il settore della chimica come sappiamo l'Eni vuole disfarsene della chimica vuole passare questo importante asset industriale ad una società privata la SK Capital che noi non ci convince perché non riteniamo che sia un'azienda capace di sviluppare questo settore così importante per il paese e noi da questa riunione facciamo partire una serie di gridi di allarme di iniziative e di nostre impressioni rispetto anche a tutta la politica dell'Eni in Sicilia Stiamo parlando dell'opportunità per circa 4.000 lavoratori che viene meno grazie alle decisioni di un consiglio di amministrazione che ha ai noi optato per occuparsi più che altro di commercializzazione di petrolio e non di finire la filiera dall'estrazione alla raffinazione passando dalla chimica purtroppo oggi viviamo questo dramma che investirà tutta l'azienda Eni I lavori sono stati coordinati dal segretario generale aggiunto della Wiltec Maurizio Castania Attraverso un nostro grido, un nostro allarme, attraverso i protocolli siglati attraverso un accordo di programma che stenda a decollare attraverso una politica regionale che deve far sì che anziché parlare di disoccupazione parlare di licenziamenti crei davvero gli sviluppi autorizzando celermente quelle che sono le attività in Sicilia sia dell'Eni o di altri imprenditori noi dobbiamo avere un cambio di marcia, un cambio di rotta siamo in un momento di stasi, non c'è quello sviluppo, non c'è quella riconversione reale e immediata che si aspettava siamo ormai a due anni dal protocollo ci aspettiamo un'accelerazione, ci aspettiamo un impegno forte sia da parte della politica sia da parte dell'Eni Chiudiamo la pagina dedicata alla sindacale occupiamoci di cronaca nera indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine a Gela in merito all'incendio che si è sviluppato ieri sera all'interno di una rimessa sulla statale 117 bis per Catania il fuoco ha danneggiato due camion in sosta ha ammesso di avere detenuto droga per spacciarla perché impreda alla disperazione economica in quanto padre di tre figli e per onorare un preliminare di vendita che gli avrebbe consentito di mantenere la propria abitazione il legionese Luigi Di Noto che vediamo nella foto ha arrestato martedì scorso dai carabinieri per detenzione di quasi 4,5 kg di sostanza superfacente a Scisce e Mariana difeso dall'avvocato Davide Limoncello ha risposto alle domande formulate in carcere dal GIP ammettendo le sue responsabilità il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere il GIP del Tribunale di Gela in accoglimento dell'istanza difensiva formulata dal legale ha disposto la scarcerazione del 33enne applicando gli arresti domiciliari il sole non tramonta mai e tutto si illumina il porto turistico Marina di Cala del Sole rappresenta un vero e proprio punto di arrivo per chi attraversa il Mediterraneo 1500 posti, barca, servizi di eccellenza, aree commerciali, intrattenimento tutto grazie all'impegno e alla costanza di un imprenditore lui è Luigi Geraci lei ha investito in tasca propria non ha avuto contributi pubblici perché le chiedo ha voluto investire in questa struttura? intanto credo principalmente nello sviluppo del turismo che la Sicilia per poter pensare al futuro deve guardare al passato il proprio passato è fatto anche di portisti o dei turisti tipo Ulisse che sono rimasti 10 anni intorno alla Sicilia a navigare, chissà che fosse per non andare a trovare Penelope oppure perché era innamorata della bellezza della Sicilia molti altri prima di noi si sono innamorati alla Sicilia noi siamo i figli di quelle civiltà che si sono sviluppate sul territorio e conseguentemente dobbiamo cercare di valorizzare ulteriormente questo territorio pensare al passato per poterci proiettare al futuro a Gela da anni ormai si parla di porto e degli interventi da mettere in campo a seguito dell'insebbimento a Licata invece si è agito quasi un altro mondo e siamo distanti appena 32 chilometri mezz'ora di strada tutta la costa, specie la costa del sud della Sicilia è una costa che merita una particolare attenzione un particolare sviluppo le singole città non dovrebbero sentirsi meno mate perché non viene realizzata una struttura perché ciascuna delle nostre città sul mare hanno delle eccellenze che se le mettessimo tutte in rete farebbero veramente la ricchezza dell'intero territorio dell'intera Sicilia Cale del Sole offre sì l'opportunità di poter attraccare qui e di avere una serie di servizi ma vuole essere un esempio e un invito anche al territorio che ci circonda di emularci e di poter copiare dal verde dall'attenzione agli stranieri dalla pulizia dalla cura basterebbe poco perché la Sicilia è tutta bella però dovremmo essere noi siciliani e essere più disponibili ad accogliere e a rispettare le persone che vengono da fuori Ma mai pensato di puntare anche a Gela lei? Beh io penso che noi apparteniamo al Golfo di Gela non c'è da puntare su Gela c'è da estendere il concetto di turismo anche a Gela, anche a Vittoria anche ad Agrigento, anche a Porto Empedocle non si può dire facciamo un altro porto la duplicazione delle strutture credo che quando sono troppo vicine è un male quando sono a una distanza di circa 30-40 miglia l'una dall'altra allora due porti ne possono fare anche tre Marina di Cala del Sole qui è vero, il sole non tramonta mai In questo territorio circa 310-315 giorni l'anno sono sempre coperti dal sole e non dalle nuvole come in tanti altri porti come in Croazio e in altre parti dell'Europa La pagina politica concordo pienamente con chi vuole lavorare ad un centrodestra unito e forte ma da non confondersi con la compattezza e la compostezza che oggi contraddistingue Forza Italia lo dice il coordinatore provinciale Michele Mancuso nelle ultime amministrative di Gela Forza Italia ha presentato una lista con il proprio simbolo dove in tanti hanno messo la propria faccia non solo altre liste hanno appoggiato il candidato Pellitteri ottenendo ottimi risultati per non parlare della nomina di un commissario cittadino che è anche deputato regionale l'onorevole Pino Federico inoltre tanti altri amici anche con ruoli nel direttivo provinciale hanno sposato dice Mancuso il progetto azzurro e con grande entusiasmo lavorano per rafforzarlo con certezza aggiunge il coordinatore provinciale posso dire che nel nostro partito non esistono cespugli e soprattutto anime diverse semmai abbiamo radici profonde nelle migliaia di militanti un tronco intramontabile nella persona del presidente Berlusconi e dei rami capaci di attraversare le mille difficoltà nelle tante risorse umane che con modestia e buona volontà lavorano sul territorio in mezzo alla gente giorno dopo giorno ciò che ci auguriamo nella città di Gela dice ancora Mancuso è che in tanti vengano a noi con il presupposto di collaborare e crescere assieme troppi tantissimi sono i problemi che assillano la gente comune per soffermarsi a discutere di politichese gli azzurri in provincia e credo poter dire in tutta la regione vogliono solo mandare a casa una sinistra disastrosa ed incapace di rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani Forza Italia chiude Mancuso vuole e deve essere il centro del grande progetto di unità dei moderati e della centrodestra nella sua interezza e stasera come ogni venerdì torna a Gora il fortunato rotocalco settimanale ideato e condotto da Franco Gallo ad un anno esatto dall'elezione a sindaco di Gela di Domenico Messinese metterà a confronto la giunta che amministra la nostra città e chi l'ha portata alla vittoria della competizione elettorale ossia il Movimento 5 Stelle i motivi del divorzio politico e le diverse visioni su come portare Gela fuori dal guado nel quale la città è scivolata dopo 22 anni di governo a guida PD saranno al centro della puntata odierna di Agora appuntamento dunque a questa sera a partire dalle 21 su Canale 10 con giunta messinese e 5 Stelle a confronto ad Agora ci fermiamo linea alla regia ed eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi del momento di riflessione sulla condizione dei migranti dal titolo tra cielo e mare promosso oggi dall'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela un momento di riflessione sulla condizione dei migranti dal titolo tra cielo e mare un lavoro didattico che ha visto coinvolti più di 300 alunni distribuiti nei palessi di via Caviaga via Salonico via Pandino e via Genova gli alunni del comprensivo Giovanni Verga hanno riflettuto sul significato della vita umana per comprendere e sollecitare un impegno collettivo per contrastare efficacemente chi osa strumentalizzare il dramma appuntamento questa mattina al parco di Montelungo a Gela presente il vescovo della diocesi di Piazza Almerina Monsignor Rosario Gisana in questo momento stiamo vivendo un processo esodale direi abbastanza massiccio e anche complesso ma credo perché la nostra condizione soprattutto di credenti ma direi di uomini e donne dovremmo cominciare seriamente a guardare l'altro nella condizione della fratellanza questo è iscritto ovviamente anche in una dimensione direi genetica noi tutti proveniamo da Adam e quindi credo che dovremmo cominciare a coltivare sotto forma educativa questo senso di apertura doverosissimo perché significa risalire alle radici della nostra identità umana nei pressi della foggia del torrente Gattano punto nevralgico del parco di Montelungo dove il mare si incontra con il cielo gli alunni hanno vestito una flotta di barche di carta per ricordare i resti dei barconi approdati sulle nostre coste abbiamo trasmesso ai bambini un messaggio di amore di accoglienza proprio di riflessione sulla base anche di racconti promossi dall'Unicef la giornata è anche dedicata e inserita nel programma della settimana dei ragazzi dove i protagonisti sono i ragazzi ma i protagonisti sono anche le difese dei diritti di questi bambini non a caso abbiamo invitato e ringrazio per aver accolto l'invito ed essere qui presenti con tutti noi la comunità dei minori io come tu siamo contenti perché ancora una volta viviamo il territorio siamo contenti perché i bambini sono tutti presenti insieme ai loro genitori e alle loro famiglie si parte dal seme soltanto così le nostre piante potranno un domani fortificarsi ed essere pronti ad accogliere il diverso che diverso non è il tempo della delega è finito questo è il motto che accompagna associazioni e cittadini che sono impegnati in Cantiere Gela una rete di rigenerazione urbana e sociale un ferimento straordinario per operare in modo progettuale e programmatico riviso in 5 tavoli tematici uno di questi è denominato aree verdi spazi urbani e mobilità è stata protocollata all'indirizzo del consiglio comunale e della giunta la bozza del primo patto tra cittadini ed amministrazione comunale per consentire la congestione delle aree verdi di Gela il patto di collaborazione è uno strumento che potrà essere operativo nel momento in cui il consiglio comunale approverà il regolamento sulla gestione dei beni comuni attualmente in fase di studio da parte dei consiglieri si terrà l'uno di 6 giugno alle 18 presso la caserma Guccione di Viale Regina Margherita Caltanissetta la celebrazione del 202esimo annuale della fondazione dell'arma dei carabinieri e mercoledì 8 giugno alle 18 si terrà la celebrazione del 199esimo annuale del corpo della polizia penitenziaria appuntamento presso l'istituto di pena di contrada abbalate a Gela la Croce Rossa italiana in collaborazione con il Ministero della Gioventù presenta l'edizione 2016 di Campo Giovani sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni c'è tempo fino all'8 giugno prossimo per consegnare la domanda di partecipazione online sul sito cri.it slash campogiovani 2016 indicando Sicilia 2 Gela in fase di iscrizione sempre la Croce Rossa di Gela organizza il secondo corso di formazione per volontari età minima 14 anni la presentazione del corso sarà effettuata lunedì 6 giugno alle 19 presso la sala formazione per ulteriore informazioni c'è anche un recapito telefonico 328-2477-645 ripetiamo 328-2477-645 successo di pubblico e di partecipanti alla terza edizione del concorso nazionale GELAS music città di Gela promosso dalle associazioni il Tempio di Apollo e giovani musicisti in collaborazione con l'anti-racket che danno Giordano tre giorni intensi culminati con la cerimonia di premiazione che si è tenuta al teatro comunale Eschilo l'iniziativa è stata organizzata sotto l'alto padronato del Presidente della Repubblica e con i padrocini della Regione Sicilia e del Comune obiettivo raggiunto è stato quello di valorizzare il ruolo formativo delle scuole medie in campo musicale fornendo agli studenti una importante occasione di crescita attraverso il confronto con altri giovani musicisti per premiare l'impegno giovanile e stimolare lo studio della musica 15 le scuole a indirizzo musicale che hanno preso parte alla manifestazione abbiamo avuto un primo premio assoluto che è stato assegnato all'istituto comprensivo statale Giovanni Verga di Vizzini abbiamo anche avuto un exequo al primo posto con la scuola Ettore Romagnoli e l'orchestra di chitarre di Scicli un secondo premio che va a San Giovanni Gemini e alla scuola di Donna Lucata e infine un terzo premio che viene dato a Ispica e Bagheria il primo premio assoluto per la categoria Giovanni Virtuosi va a Savitteri un sassofinista e il primo premio ad un batterista di alto livello nonostante abbia soltanto 15 anni poi ci sono stati tanti altri premi che sono stati dati ai solisti fra questi alcuni solisti anche di Gela abbiamo dei bravissimi violinisti abbiamo scoperto e sono stati anche consegnati alla scuola Quasimodo e la scuola San Francesco Plesso Giudici altro obiettivo dell'iniziativa è stato quello di offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere e apprezzare Gela per il suo patrimonio storico monumentale il suo territorio e le bellezze della Sicilia con le sue risorse turistico-culturali e enogastronomiche questa è stata la settimana della musica all'insegna della gioia della convivenza e dello scambio dei ragazzi perché si sono ritrovati anche i colleghi che hanno partecipato a vari concorsi nazionali questo concorso è iniziato circa quattro anni fa quando abbiamo costituito l'associazione Il Volo erano dei ragazzini che noi abbiamo costituito e venivano presso la nostra sede e imparavano tante cose sono riusciti poi attraverso la loro associazione di portare addirittura delle denunce di bullismo presso la nostra sede man mano questi ragazzi esperti nel campo della musica si sono aumentati si sono progrediti si sono diventati ancora più bravi si sono fatte tante competizioni e adesso oggi raccogliamo i premi festa di Maria Santissima ausiliatrice domenica 5 giugno a Gela le messe nella parrocchia San Domenico Savio sono previste alle 8 alle 10 e alle 11 e 30 alle 10 si terrà la passeggiata della banda musicale Francesco Renda alle 18 solenne con celebrazione e alle 19 la processione alle 22 concerto dei gruppi musicali e alle 23 sorteggio dei biglietti venduti e giochi pirotecnici l'arco club Ajas Gela sarà presente ai 29 campionati italiani outdoor pararcheri che si svolgeranno domani domenica 5 giugno a Padova a difendere i colori della città di Gela saranno la campionessa italiana uscente Kimberly Scudera e Isidoro Scolaro entrambi reggeranno nella disciplina tiro con l'arco alla distanza di 60 metri nelle categorie juniors femminile e senior maschile dopo le qualifiche di domani e l'assegnazione dei titoli di categoria gli stessi saranno chiamati a disputare gli incontri per il titolo degli assoluti nelle finali di domenica 5 giugno concorrendo nel mix team alla ricerca di nuove medaglie in questa settimana hanno ben affilato le punte per fare bene e centrare le vittorie ha detto al coach Salvatore Mussoni gli arcieri sono in piena forma per far bene e cercare di portare il titolo in città sfumato per soli tre punti lo scorso anno il team giulese sarà affiancato dall'assistente Rosalinda Scudera abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione